Ragazzi, oggi doveva essere il primo giorno di torneo, ma alla fine giochiamo domani. È uscito il tabellone e andiamo direttamente alle fasi finali perché, eccoci qui, il mio compagno è livello 2.4. Io, come vedete, sono ancora non classificato. Se fossimo stati tutti e due livello 4, avremmo dovuto fare le fasi di qualificazione. Infatti, come vedete, questi sono tutti non classificati o livello 4. E come avete visto prima, la prima partita la faremo con uno dei due qualificati dalle fasi di qualificazione. La buona notizia è che probabilmente, anche se dovessi perdere la prima partita, riuscirei ad ottenere dei punti fit. La cattiva, forse, è che dovremmo giocare contro persone che hanno già vinto dei turni nei campi dove giocheremo. In ogni caso, dato che oggi non si gioca, io e Leo, il mio compagno, abbiamo deciso di trovarci per giocare un po' di palline e organizzarci per la partita di domani. Quindi ora sto andando al club. Buongiorno. Pare che adesso ti filmerò in qualsiasi cosa farai. Oddio. Ma quando è che iniziano il torneo? Domani. Domani mattina? Sì, c'è qualche turno che domani vuoi che... Io ho due e mezzo. Noi due e mezzo. Due e mezzo. Contro, qualificati. E dopo c'è Barnaba. Sì. E dopo battiamo Barnaba. Basta non andare fuori di testa nuca. Fai il vlog del primo torneo? Eh beh, per forza. Ma come funzionano i punti fit? Io ho visto i livelli, ho detto, boh, 2-4, cazzo, ho detto, fortissimo. Allora, in base alla coppia che batti, quindi se magari hai una coppia con un 2-4, un 2-3, si sommano i punti e tu prendi i punti di quella coppia battuta là. Ah sì? In teoria mi pare che è così. Quindi se tu batti un... Io batto un 3-3, parto direttamente da 3-3. No, no, no. Ti dà, ci sono un tot di punti, ok? Per ogni coppia che batti. Ok. Oppure ci sono alcuni tornei in cui i punti li prendi dal turno in cui passi o dalle coppie iscritte. Ok. Quindi... È un po' complesso. Io non ho mai capito niente di sta roba. Infatti... Gioco e dopo... Ok, ma tipo, cioè poi il livello quando cambia? Cioè, te lo cambiano una volta ogni... Allora, adesso lo facevano ogni fine anno. Cioè, perché per esempio io sono NC. Rimango NC, cioè anche dopo sto tornando. Tutto sto anno tu rimarrai NC. Che figata. Quindi potremmo trovare due, quattro NC che sono fortissimi dalle qualificazioni. Però... Succede? Succede. Molto spesso succede questa cosa. Ah, ok. Infatti ci sono due coppie. Uno... Tu hai visto il tabellone di qualificazione? Ho visto il tabellone. Sei la seconda testa di serie, Mastro Cola Palumbo. Che sono sotto. Testa di serie numero due del tabellone di qualificazione. Sono forti. Molto. E invece sempre dalla parte sopra sono due, quattro NC. Uno si chiama Fru, che è un nome stranissimo. E anche lui gioca veramente bene. Subito ci troviamo gente forte. Forte, però sicuramente non come il turno dopo, capito? Quindi è partita che in teoria noi dovremmo vincerla. Ok, chiaro. Ok. Facciamo due palleggi. Sì. Vai. Vabbè, cioè facciamo riscaldamento e poi se vuoi facciamo incrociato, come preferisci. Prima facciamo un po' di palleggi qua a rete, corti, tanto per scaldarci. Dopo andiamo a fondo, pittino. Ok. E dopo partita. Ok, va bene. Va bene? Vai. E i più forti che ci sono in sto torneo tu li conosci? Eccolo là. Lui? No, in realtà no. Ci sono altri due ancora più forti. Ho visto che ci sono due livello 2-1. Sì, sì. Sono bravi? Quelli là sono patracchini si chiama. Lui gioca a molti tornei. Adesso facciamo così. Palleggiamo sempre corto, però la stoppiamo e dopo ce la passiamo. Classico riscaldamento, coach. Coach Diego. Sempre su dritto, dritto, rovescio, rovescio. Il pocio me lo fa fare sempre. Così impari sensibilità della palla. Di solito tornei con chi li giochi? Adesso non ho un compagno fisso, se devo essere sincero. Però magari c'è un ragazzo che conosco di Roma, con cui gioco con lui i tornei a volte. Dipende. Non ho un vero compagno fisso. Ma hai mai giocato degli open o...? Sì, ho giocato anche slam, ho giocato un po' di tutto. Della FIP o di...? Ho giocato, sì, i mondiali nel 2019. Com'è andata? Mondiali juniores. Abbastanza bene. Ti rendi conto che all'estero sono ancora più forti di te. Intendo in Spagna, eh? Perché nelle altre nazioni siamo più o meno tutti allo stesso livello. Il mondiale nel 2019 e stava giocando Bea González, per dirti. Quindi fai un po' te. Poi c'era anche Miguel de Anguas. Eh sì, ma guarda, io ho fatto tre mesi lì a Madrid. Sì. Dove si allenavano loro. Io mi allenavo in un campo, loro si allenavano nel campo a fianco. Sì, sì. Cioè, con Galan che, anche se gioca col c***o, così non ne sbaglia una. Adesso facciamo dritto, rovescio. Adesso ho fondo campo, facciamo palleggio. Facciamo con le bandecca. Sì. Che così è palla viva. Dopo al massimo, per decidere chi gioca a sinistra o a destra. Dopo giocando, vediamo. Sì, sì, no, vabbè, ma giocherai te a sinistra e io a destra e poi vediamo. Come vuoi. Tu di solito dove giochi? Io gioco da tutte e due le parti, dipende dal compagno con cui mi trovo. E io adesso spingo poco per il momento, quindi è meglio se giochi io a sinistra. E allora gioco te a sinistra. Va bene. Cioè, poi vediamo come va. Sì, sì, sì. Vai, alza la bandecca. Scusa, niente. Se vedi che l'avversario è in difficoltà, magari fai due o tre passi avanti, prendi al volo. Sì. È buona, eh? Porco due. È buona, eh? Vieni tra la rete. Le palline da fondo che giocano loro, sono così. È più facile giocare una pallina veloce che una pallina lenta. Sì, lo so. Volè e bandecca. Appoggiala. Se ti giocano una palla del genere, questo. Sì, sì, no. Appoggi. Come ha detto lui, che aveva detto giusto, con loro bisogna tutto giocare. Sì, sì, no, basta che non si alza. Perché li ho visti giocare. Hanno giocato contro l'Urban ieri. Ok. Domenica, fingami. Ma chi? L'Urban padel ha giocato. No, no, ma chi è che ha giocato contro? Moretto. Quello che anche qui dobbiamo giocare. Ok. E lui gioca tutto forte. Ok. Non giocano a padel. Sì, 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 ok. Giocano a tennis. Hanno un po' le basi, però principalmente tirano solo palle così. Solo palle fortissime. Ok. Dobbiamo cercare di rallentare il più possibile il gioco. E basta. Se sei in difficoltà, piuttosto di sbagliarla, gioca una palla così al centro. Perché noi dobbiamo sbagliare il meno possibile. Se noi sbagliamo il meno possibile, vinciamo quella partita. Vamos, coach. Mamma mia, che male oggi. Va bene, dai, dai, dai. È normale, è normale. L'importante è che non sia male domani, eh. Le ultime due che poi giochiamo. Poi, le ultime due e poi giochiamo. Vai. Ui. Bastardo. Totti, tieni. Bellissima. Questa perfetta, eh. Bello. Va bene anche variare il ritmo. Se riesci, giocale un po' oltre alla riga. Ok. Perché loro, se tu gliela giochi davanti... Sì, la prendono prima del vetro. Sanno usare il controbalzo. Sì. Perché principalmente dovremmo giocare sul non sbagliare noi. Non sbagliare, fare questa. Così muore. È che sto provando a tenerle piano. Queste qui mi vengono fatte... Piano? Che rifersi. Dai, posto. Tiriamo su le palline. Sì, più che altro, prima di pensare a quella dopo, io penserei a concludere quella lì che giochiamo più bravo. Però... Eh, infatti no, ma anche quelli di prima saranno sicuramente tennisti, eh. Sì? Sì. Quasi sono messi. Perché se lì ci troviamo... Ah, i 4NC sono tutti tennisti che giocano le prime palle. Più o meno sì. Quindi, cioè, la palla più o meno, quando ti arriva la bandecca, o questa al centro, proprio lenta. Sì. Perché così loro, lenta, devono correre, si mettono in difficoltà. Oppure, se proprio sei in difficoltà, da qua, piano al centro. Sempre lunga però, eh. Sì, sì, chiaro. Dopo questa palla qua, loro saranno in difficoltà più o meno. Andranno sicuramente in difficoltà. Tu, avanti. Pum! Cambi ritmo. Chiaro. Basta. Vai, partita. Seguitemi su Instagram, Leonardo, bevi l'acqua a padel. Con qualsiasi compagno, se dovessi scegliere, non sapendo il compagno. Non sapendo il compagno, io giocherai comunque a sinistra. Ok. Quindi sei un giocatore di sinistra alla fine. Mi piace giocare a sinistra, ma so giocare anche... Cioè, ok. Mi piace giocare a padel. Ok. Out. 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 È buona, è buona. Vai. Ha fatto l'effetto. Ah. Pari 15. Oh. Là, sei lento, anticipa. 30 a 15. Ah. Cazzo. Pari 30. Ah, non si può dire su YouTube. 1 a 0 per te, gioco. Ma giocano anche con i fuori. C'è il recupero o no? Sì. Si può andare fuori. Oh. Ah. Bravo. Uh, che bella. 40 a 30. L'hai giocata davanti alla linea. Bravo. Questa è andata bene. Questa è andata molto bene. Due pari. Oh. Cos'è? Sorry. No, cosa fai? Qua l'hai spinta per niente. Sì, lo so. Alla fine, basta. Tacca al centro. Tu è rila e tu... Prima ti ho fatto un punto in cui ho giocato 5 palle, tutte appoggiate. E ti ho anche fatto punto. Qua sono stato stupido io che potevo girare e prenderla bene, ma sei stato bravo anche te. Pensavi che andasse fuori. Anche perché un tenista quella va, non la prende mai. Fa fatica. Perché la tira forte di rovescio. Tenista fa fatica a prenderla, fidati di me. Ma lo vedo perché sono identico. Eh. E se tu vuoi mi ammatti perché sei più forte di me. Sì. Ma ti stai... Stai giocando al mio ritmo. Ed è la stessa cosa che faccio io. Tu devi... Tu non devi guardare l'avversario, devi ammazzare chiunque. Ma è la roba in cui mi stavo... Io, cioè, se io gioco con i nonni. Giovi velocizzi, i nonni. Sì. E se qualcuno mi stressa, io miglioro. Non so tu cosa preferisci. No, no, è giusto. Cioè, se qualcuno a me mi stressa, come in partita l'altro giorno, giocavo con Mattia, un tipo che allena al nuoto 2000. Quando... No, io non posso... Cioè, se mi stressi, vado in over. Vai di matto? Sì. Mi devo tranquillizzare io di solito. Ok, ma è tipo cosa ti aiuta a tranquillizzarti? Perché, per esempio, a me fa stare bene quando uno mi dice dove hai sbagliato e cosa fare. Sì. Quello lo faccio sempre. E mi fa stare... Quella roba mi fa... Cioè, tipo, se mi dici, guarda, hai fatto sto errore. Sì. Che io dico, e tu mi dici, dai cazzo, perché qua siamo, cioè, siamo sotto. Come se mi sgridi, capito? Se mi sgridi, io sto bene. No, sgridarti, no, no. Ma ti giuro, se qualcuno mi sgrida, sto bene. Poi, un'altra cosa che mi fa stare benissimo, come tu? Lui mi ha detto dove mettere la battuta. E solo dicendomi dove mettere la battuta, io ero concentrato su dove devo giocare, dove devo andare. Sì. E quindi mi dice, tipo, metti la lenta sul vetro, metti la lenta centrale, metti la veloce centrale, veloce da una parte. Mi ha tolto una scelta e io ero più rilassato. Sapevo cosa dovevo fare e facevo. Io devo tranquillizzi, se mi tranquillizzi, io gioco perfetto. Riesco anche un po' ad autogestirmi. Tu ragioni in prospettiva o ragioni cos'è successo, riciclo e poi vado in prospettiva? No, allora, quello che è successo, se ho sbaglio, io cancello tutto e riparto dall'inizio. Dopo ragiono su come mi... Ma tu ragioni sul punto, sul set, sul game? Io ragiono sul game. Quando c'è il cambio campo, dico, adesso ragioniamo come... No, tanto per capire cosa dirti. Perché a me aiuta se qualcuno mi sgrida e mi dice cosa fare. Se io sono sotto, preferirei avere delle soluzioni per uscire da quel momento là. Ok. Quindi, tipo... Gioca su quello lì che è sotto. Sì, sì, perché io vado... Ti forza una giocata? Vado troppo, mi stresso. Divento molto matto e devo cercare di uscire da quella situazione là. Io invece al posto di diventare matto mi sotterro. Se vedo che sbaglio una, due, tre palline, io mi sotterro. E io ti ammazzo se ti sotterro. Quindi, perfetto. Perfetto. Così ti stresso. Tu stressami e io ti tranquillizzo. No, sotterro... Allora... Eh, sono fatto così, non è che lo faccio a posto. Sì, sì, lo so, lo so. Sì, sì... Cercare di deluderlo o sotterrarti. Perché se mi sotterro io, si sotterra anche il tuo compagno. Ok? Sì, sì, sì. Quindi cerca, in quel momento là, sempre di trovare un modo per uscire da quella situazione là. Ok. Qualsiasi cosa. Magari sei il braccino e mi cominci a tirare un po' di più. No, ma io vedo che... Va bene. Un modo per aiutarmi è dirmi cosa fare. Il punto è dopo. Io escludo quello che è successo e inizio a fare quello. Bravo. Perché se no ho la mente su mille cose, soprattutto sul fatto che mi sto sotterrando. Però se tu mi dici, stiamo battendo. Cioè, il gioco è il nostro sul vetro. Se sta battendo lui e devo ricevere. E tu mi dici, prova a giocargli alla bassa. Prova a giocargli alla bassa centrale, piuttosto che prova a fare il pallonetto su quella rete. Io lo faccio. Io lo faccio. Soluzioni. Potrebbe essere anche il giocatore più forte del mondo, ma io lo faccio perché tu mi hai detto di farlo. Se invece sono io a gestirla da solo, perdo il punto. Poi, dovrei... Allora, a proposito di tattica e cose. Secondo me dovremmo giocare molto lento. E dopo fare tanti cambi di ritmo con i qualificati, intendo io adesso. I qualificati tanto cambio di ritmo. Perché li metti in difficoltà. E siccome noi siamo più forti in teoria di loro, di solito si gioca sempre sullo stesso. E dopo, se quello stesso, cambi. Centro di là. Sì, 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 chiaro. Centro di là. Sempre così. E se invece saranno più forti, bisogna cercare di farli correre, muoverli il più possibile. E basta. Solo questo. Vediamo. Sarà divertente.